VIDRALA Partendo dal 1965, nel nostro primo impianto all'audio in Spagna, Vidrala è diventata sempre più forte. Investendo anno dopo anno, abbiamo acquisito aziende di successo in Europa, consentendoci di diventare leader nella produzione di contenitori di vetro per cibo e bevande in Europa occidentale. Avendo inoltre accolto Encirche e SB VIDROS nel gruppo, Vidrala è ora capace di offrire un servizio completo, dalla manifattura al rifornimento e alla logistica. 8 impianti e 19 forni, diffusi in Regno Unito, Italia, Spagna e Portogallo, ora producono più di 8 miliardi di bottiglie e vasi all'anno per oltre 1.600 clienti. E non ci fermiamo qui. Con la visione di un'organizzazione di fama internazionale, in cui i nostri clienti, le persone e i fornitori sono sempre al centro di tutto quello che facciamo, i 3.500 dipendenti di Vidrala si innovano, si migliorano e avanzano continuamente. Aspiriamo ad essere il più sostenibile produttore di contenitori di vetro al mondo, costruendo un futuro a emissioni zero su quattro principi fondamentali, persone, posto, pianeta e prosperità. Collaborando con i nostri partner, ci impegniamo ad implementare avanzate tecnologie per forni, processi produttivi e controlli qualità. Raggiungendo grandi performance per i nostri clienti, mentre aiutiamo le nostre comunità locali e riduciamo il nostro impatto ambientale tramite un'economia circolare. e investendone le nostre persone per attrarre, sviluppare e mantenere i migliori talenti per una nuova emozionante era di innovazione sostenibile.